secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie nei sensi dove sei padova come guarda che non è una sigaretta vieni qua mi fa un tutorial su come te ecco così così come ce l'hai in mano adesso così oh bravo come si tiene un micro bene esatto qua potevi farmi la battuta e dire tu sì che sei esperto ma a te mi è capitato di fare sesso occasionale ma prima di entrare agnese la mia ex sì qualche robetta ma niente di particolare ho capito e ora se ti consideri secondo te considero sono sposato no 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 voglio sentire i tuoi peggiori soldi della tua vita esatto ma se sei un prete cioè ma poi c'è zero spettatori ma figa scherzo è chiuso allora ragazzi scusate qua sono concentrata ma porco dio adesso tu ti risordi e speddo per il culo e ramm la faccia eh ragazzi con i stagi poi non lo farei non lo faresti? no piuttosto faccio holly fans nei piedi e vendo io no però però col braccio ci puoi mettere tipo una mano così così e entra tipo un po non tutto il braccio basta solo una mano basta che c'è una penetrazione basta che ci sia una penetrazione un po estrema però no ragazzi io Ragazzi vi sto per dire una roba Che vi manderà in tilt il cervello Vai Attenzione La frase in italiano è questa Porcaccio di quel dio Voglio farmi una bella pera di eroina Alla facciazza del dio maiale Scusate le bestemmi Se ci pensi pure la questione figli Quanti content creator C'hanno figli Sul web adesso Quindi tu non sai qual è il prossimo passo Andrea Galeazzi Sì sì Galeazzi Galeazzi tra l'altro ci ha fatto una vacanza insieme Bisteccone? No 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 Andrea Galeazzi Ah pensavo Bisteccone Tra l'altro credo che sia morto Sì è morto Eh sì Comunque non era una poesia quella Era un incantesimo Quello fra Sì infatti Cattrice Che cos'è che Che cos'è che ti È una frase di Harry Potter Ti lasciai Mannaggia L'ha mancato Ma Katrin Vabbè ma guarda Ti Molto sinceramente L'età è un numero Per quanto mi riguarda Poi è chiaro Se c'hai 30 anni E fa serata con quelli De 18 20 E insomma un po' più Oddio Non so se fai così Cioè è un po' Eh capisci Stasera no Capito che stasera non è serata Qua Vabbè Minchia che abuso Minchia Mike Guarda che qua Qua Mike Qua Mike Intanto scusa Quanti anni hai 18 18 18 18 18 Sono pochi Rubino sta lì Aspetta 18 da quanto? 7 luglio Porto Al limite Proprio Rubino Rubino Catrice Posso sapere Cosa stai bevendo? Una zuppa di milo? Mosco mule Stai bevendo dal vaso Dove c'era la pianta Casi Ma perché nel Perché il fiore C'è la Nella lattina della Monster? Ma perché non è bello? Mi piace il Monster Mi piace le rose Giusto Perché non unire le due cose Senti Catrice Non Ne entrerò mai più In un live Già Ho un po' di problemi Con le live Quindi Non voglio mai entrare Perché Poi vedo le clip E mi piglio male Però Ho fatto un errore Scusatemi So che qualcuno Le clipperà Però Vabbè Non importa Tranquillo Basta Simone Basta Sa che sta dedicando Una piccola serenata Alla Catrice Grimbauda Volevo Farti Una Una domanda Su Twitch Importante Ve l'ha detto Axel La mille Axel Tu sai chi è Axel Presente? Non sono Axel Chi è? È il nuovo spasimante di Martina Ti piace Axel? È un tuo moderatore Sì Immaginavo Ragazzi Un po' di Calma Calma e sangue freddo La pace Non so capire un cazzo Vabbè Guarda Gaia Non ti muove troppo Perché sennò Ci bannano la like Per favore Non muoverti Un po' di whisky? Ma Signore Ma è ancora È ancora Come si dice Io ho visto Dio Dicevano Casa mia abusata Abusata Una casa abusata Casa abusata Non funziona Streamyard qua Non funziona Streamyard qua Scusa Scusa Rubì Sì Rubì no Posso fare una domanda? Sei un grande Io sai che non conosco Non conosco personaggi Quindi non so che è Quella signora Mio frone Ci vediamo alla prossima Quando gli astri si fonderanno di nuovo Per farci unire Ciao a tutti ragazzi Buonanotte Ciao belli Grazie per essere venuti in live Grazie Poi magari cazzeggio Mi piace scherzare Eppure sminuirlo Però c'è tanto studio E tanto lavoro Dietro quello che faccio Non è un caso che Insomma Sto qui da tutto sto tempo Però Per Insomma Per risponderti in maniera un po' Più veloce Non me lo scorda Grazie per i b Finchia Hai patissimo Ciao 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 ragazzi Ciao Ciao Penso sempre Ciao 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 Scusa Buonanotte Un malottima Una bella idea Quella delle storielle Poi tu mi hai buttato fuori Perché Sei stronzo Però E' una bella Una bella